Ciao a tutti, sono Giulia Grillo, ho 23 anni e arrivo da Saluzzo. Mi sono laureata circa due anni fa in Communication Design all'OIAD di Torino, ma ho capito dopo la laurea che quella non era la mia strada, bensì era proprio quella di dare vita a prodotti da arredo. Proprio per questo motivo sono riuscita a realizzare il mio sogno, ovvero quello di aprire un mio brand, Giulia Design, dove in ogni mio prodotto riesco a dare un pezzo di me stessa, riesco ad abbinare un po' di luci a materiali grezzi o lavorati. Il procedimento che c'è dietro a ogni mio prodotto è proprio la parte creativa, che mi studio e penso, fino a poi passare alla realizzazione, che passo giustamente a piccoli artigiani, in modo tale da avere un prodotto finale unico.